A Ravenna la stagione turistica continua a registrare alti e bassi. Dopo il boom di Pasqua, Samantha Tardi, consigliere comunale di Cambierà, ha accusato l'amministrazione di non avere mantenuto le promesse agli operatori e che tutto possa finire in fumo. Filippo Donati, presidente a Sotel, interviene ai nostri microfoni e lancia uno sguardo accorato sul mercato che stagna. Qual è la motivazione principale per la quale la gente, il turista, cioè chi viene da fuori e per notte almeno una notte dalle nostre parti sceglie di venire da noi, andrebbe analizzato qual è la motivazione di scelta e bisogna fare un ragionamento su quello che costa una vacanza dalle nostre parti e quindi quanto costa produrre un tipo di servizio a noi imprenditori. Bisognerebbe fare il conto di quanto si impiega a raggiungerci, per esempio da Milano al venerdì, incontrando l'imbuto tra Modena e Bologna che a volte fa perdere dalle 2 alle 4 ore, quindi la difficoltà di raggiungimento perché i turisti ci sono dove possono arrivare. La terza è quella di finalmente avere un'amministrazione pubblica e questa potrebbe essere l'amministrazione giusta, un'amministrazione pubblica che decide di fare una scelta coraggiosissima, di prospettiva e che invece di inseguire altre destinazioni scopiazzando con passerelle di legno che venivano montate 20 anni fa in Sardegna, magari un'idea nuova, una novità, uno scartamento elettrico, una destinazione ecosostenibile, un qualche cosa che ci faccia diventare, ci faccia ritornare una destinazione capofila, una destinazione esempio per altre destinazioni. Ci vuole coraggio. Grazie. 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 Grazie a tutti. La nostra sensazione è che il prodotto cominci ad essere un attimino un prodotto vecchio, un prodotto fin troppo utilizzato, un prodotto che ormai in pochi richiedono. Bisogna rivedere la nostra destinazione, il nostro prodotto, bisogna rivedere il modo in cui noi comunichiamo la nostra destinazione. Bisogna rivedere la nostra destinazione. Bisogna rivedere la nostra destinazione.